Vincenzo Stanziola tiene una relazione dal titolo mecenatismo tra diplomazia e promozione personale alla committenza Kingi Zondadari. Vincenzo Stanziola è dottorando all'Università di Roma Tor Vergata e si sta occupando di Pietro Bianchi, il Creatura, con il professor Grisolia. Grazie a lui la parola. Grazie, grazie professore. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori e i promotori tutti di questo convegno per aver accettato la mia proposta. Per la relazione ho indicato volutamente un titolo generico. Le problematiche legate all'attività mecenatizia di Antonio Felice Chigi Zondadari sono infatti tante e tali che qualsiasi tentativo di maggiore specificazione mi sembrava limitante. Tuttavia ho ritenuto opportuno concentrarmi in questa sede soprattutto sulla serie di dipinti con episodi della vita dei principali esponenti di Casa Chigi e del ramo Zondadari alla cui valenza politica si è sempre fatto riferimento senza tuttavia indagarla nel dettaglio. Questo convegno mi sembrava pertanto l'occasione perfetta per farlo. Antonio Felice, figlio di Anzano Zondadari e di Agnese Chigi, diede vita insieme ai fratelli Bonaventura, Marchese di San Quirico, Marco Antonio, Gran Maestro dell'Ordine di Malta e Alessandro, Arcivescovo di Siena, al casato Chigi Zondadari, acquisendo il cognome materno e legandosi in tal modo ai più illustri esponenti della sua famiglia, Papa Alessandro VII e lo zio, il cardinale Flavio Chigi. Divisi tra la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini e il Minneapolis Institute of Arts si conservano nove dipinti appartenenti alla cosiddetta serie Zondadari, raffiguranti i più importanti episodi della vita del cardinale, dei suoi fratelli Marco Antonio e Alessandro e dei suoi più celebri avi, i già menzionati Alessandro VII e il cardinale Flavio. Questi dipinti furono realizzati da alcuni tra i maggiori pittori attivi a Roma nel terzo decennio del Settecento, quali Pietro Bianchi, Sebastiano Conca, Placido Costanzi e Giovanni Dazzi, a cui si aggiungeva il senese, conterraneo degli Zondadari, Giuseppe Nicola Nasini. La critica per la funzione palesemente celebrativa del ciclo ha sempre eletto tale commissione in rapporto alle aspirazioni di Antonio Felice a farsi eleggere a capo della Chiesa di Roma. Che il committente dei dipinti sia stato proprio il cardinale non ci sono dubbi. Questi di fatti è il vero protagonista del ciclo, con ben cinque tele a lui dedicate, raffiguranti tutte episodi legati alla sua annunziatura apostolica a Madrid, svolta tra il 1702 e il 1709 nel pieno della guerra di successione spagnola. Gli episodi rappresentati sono nello specifico Monsignor Zondadari sbarca da Alicante di Giovanni Dazzi, scusate torno alla slide precedente. Monsignor Zondadari ha messo alla corte di Filippo V di Sebastiano Conca e l'incontro con Filippo V presso i padiglioni del campo di una battaglia di Pietro Bianchi. Poi Monsignor Zondadari che benedice la popolazione spagnola e Monsignor Zondadari si licenza dagli ufficiali spagnoli, entrambi di Placido Costanzi. Due dipinti sono dedicati ai fratelli di Antonio Felice, Marco Antonio Zondadari che riceve gli stendardi turchi predati dalle navi maltesi di Sebastiano Conca e l'arcivescovo Alessandro Zondadari che prende possesso della chiesa metropolitana di Siena di Giuseppe Nicola Nasini. Altri due dipinti erano dedicati a Papa Alessandro VII quando questi ancora cardinale presiedeva il congresso di Munster di Placido Costanzi, più una perduta tela segnalata in un inventario dei beni del cardinale, inventario di cui discuteremo più avanti, che doveva rappresentare il Papa nell'atto di accogliere Cristina di Svezia a Roma. Un ultimo dipinto era dedicato al cardinale Flavio Chigi, raffigurato davanti la chiesa di Santa Maria del Popolo nel pieno della peste del 1656. Per quanto concerne i nomi degli artisti che realizzano tali opere, tre sono forniti dalle fonti settecentesche. Lione Pascoli, nelle rispettive biografie, menziona i dipinti di Sebastiano Conca e Giovanni Odazzi, mentre Carlo Giuseppe Ratti ricorda l'opera di Pietro Bianchi nella vita dedicata al pittore, redatta nel 1769. Placido Costanzi è l'unico che firma e data le sue opere. 1727, le due a Palazzo Barberini, 1728, la tela a Minneapolis. Mentre l'analisi stilistica ha consentito di restituire a Giuseppe Nicola Nasini la tela dedicata all'arcivesco Alessandro. Un'attribuzione avanzata per prima da Stella Rudolf negli anni 70, confermata poi da Ciampolini nel 92 e recentemente da Alessandro Bagnoli tramite comunicazione scritta che ringrazio. Resta oggi ancora anonimo il dipinto dedicato al cardinale Flavio Chigi, non convincendo l'ultima attribuzione data nel catalogo del Museo Romano del 2008, con riferimento a Benedetto Luti. Attribuzione di fatto respinta anche da Rodolfo Maffeis nella sua monografia dedicata al pittore nel 2012. La datazione delle telezondadari consente di collocare definitivamente l'intera commissione al biennio 1727-28, periodo in cui il cardinale finanziò pure la decorazione ad affresco della volta di San Gregorio Alcelio, chiesa dell'ordine camaldolese, di cui lo zondadari era protettore. I pagamenti a Costanzi si conservano presso l'archivio storico dell'ordine a Camaldoli. Un filo rosso collega queste due imprese zondadari, cioè il tema della chiesa trionfante, rappresentato nell'affresco dal trionfo sull'eresia e dalle gesta dei vari chigi nelle tele della serie. La volontà del cardinale di presentarsi come difensore della chiesa e soprattutto dei suoi interessi trova conferma quando si vanno ad analizzare le vicende che lo riguardarono in prima persona nel corso del conclave del 1730 e che qui converrà analizzare brevemente. Come osserva Zanelli nella sua ricostruzione documentaria del 1890, cito, Il conclave, cominciato il 3 marzo e finito il 12 luglio, fu quello nel quale, più di ogni altra cosa, furono in gioco l'astuzia e l'intrigo, le bizze e gli interessi dei cardinali e delle potenze. Fine citazione. Tante tali erano infatti le fazioni in cui i cardinali erano divisi e talmente grandi gli interessi delle potenze europee da rendere estremamente difficoltosa qualsiasi previsione. Il numero dei partiti presenti era di fatti straordinariamente grande, rendendo assai difficile distinguere con chiarezza i loro singoli aderenti. Inoltre, la durata dell'evento, quasi quattro mesi, e l'atteggiamento ambiguo di taluni cardinali, come riportato dalle cronache dell'epoca, ne rendono complessa una veduta d'insieme. Stando alle informazioni ricavabili dal Diario di Roma di Francesco Valesio, la candidatura dello Zondadari salta fuori per la prima volta il 9 aprile, cito, si sparse per la città, voce che vi erano stretti trattati per il cardinale Zondadari senese, con poca soddisfazione del popolo, per essere uomo di ottimi costumi, ma minuto e seccatore, e ne raccontavano molte cose strane, come il non volere che i servitori sputino in terra, facendo allustrare il mattonato e simili. Sarà utile ricordare che il precedente pontificato di Benedetto XIII era stato duramente segnato dagli scandali legati ai suoi più stretti collaboratori, esemplare la vicenda del cardinale Coscia. Pertanto, appare logico considerare che presentare un'immagine di sé, la più integerima possibile, di ottimi costumi per usare le parole di Valesio, potesse costituire una prerogativa fondamentale, oltre che una strategia per poter essere presa in considerazione dal collegio cardinalizio. Tuttavia, questa poteva risultare un'arma a doppio taglio. Difatti, alla data del 20 maggio, troviamo scritto «Non si è proseguito il trattato di eleggere il cardinale Zondadari per varie difficoltà, ed era poco accetto alla curia per le sue seccagini, essendo peraltro ottimo ecclesiastico, ed in conclave ne era andata una scrittura ripiena di queste sue stravaganti stitichezze». Sembra così delinearsi per Antonio Felice il profilo di un prelato intransigente, particolarmente attento alla dignità della propria carica, proprio l'immagine che viene fuori dai dipinti della serie. Questi, infatti, presentano il cardinale nella doppia veste di uomo di chiesa e di uomo politico, prerogative essenziali per chiunque aspiri a diventare pontefice. Si arriva così alla data del 25 maggio 1730, quando il nome dello Zondadari torna in auge per essere eletto e il Valesio riporta. Si fanno trattati gagliardi per la elezione del cardinale Zondadari. Tuttavia, il giorno seguente, cito, «Quando pareva prossima, l'elezione del cardinale Zondadari visi opposta alla corona di Francia, onde è affatto caduto». Per meglio comprendere le motivazioni che portarono al veto francese, è ora necessario illustrare il contesto politico dentro il quale il cardinale si trovava a testare le sue fila. Grazie alla ricostruzione effettuata dal pastor nella sua storia dei papi, sappiamo che dalla sua lo Zondadari aveva sia i cardinali cosiddetti zelanti, che certamente dovevano apprezzare il suo essere ottimo ecclesiastico, sia un piccolo gruppo di cardinali vicino a casa Savoia, capeggiati da Alessandro Albani, sia i cosiddetti benedettini legati al defunto Benedetto XIII. Il cardinale Alessandro Albani, che per primo aveva avanzato il nome dello Zondadari, confidava poi nel fatto che la sua candidatura sarebbe stata accettata, in quanto toscano, dai cardinali francesi e dagli spagnoli, e che non avrebbe trovato eccessiva opposizione da parte dei tedeschi. Disattendendo le aspettative del cardinale Albani, come si è visto, i francesi affossarono invece la sua candidatura. Tuttavia lo Zondadari non avrebbe ottenuto nemmeno i voti degli spagnoli, come rivela il marchese d'Ormea, funzionario piemontese, in una lettera a Vittorio Amedeo II. Cito. Si sarebbe, per parte della Spagna, concorso in qualunque toscano che fosse proposto, e nominatamente in questo il Monteleone confessò il fatto, ma replicò che si erano avuti poi riscontri differenti di questo soggetto, che avevano obbligato a mutare sentimento. L'avversione da parte dei francesi e degli spagnoli nei suoi confronti era quindi strettamente personale. Il motivo va ricercato nella drammatica chiusura dell'Annunziatura allorquando, nel 1709, a seguito delle trattative di pace avviate da Clemente XI con l'imperatore Lopoldo I d'Asburgo, Filippo V di Spagna stabilì il 5 aprile l'espulsione dell'Annunzi Apostolico, disposizione a cui lo Zondadari non ottemperò fino al 22 dello stesso mese, quando vi fu praticamente costretto scortato fino al confine dei Pirenei. Si comprende bene quindi come la commissione dei dipinti da parte di Antonio Felice, conscio delle difficoltà che la sua candidatura avrebbe incontrato, doveva servire a restituire un'immagine del cardinale che provasse ad oscurare la memoria della drammatica fine della sua missione. Ulteriore prova delle sue aspirazioni è costituita da una lettera consegnata nel corso del conclave sia ai francesi che agli spagnoli, di cui una copia si conserva presso l'archivio spagnolo di Simancas, lettera con cui il cardinale provò a giustificare le sue azioni svolte nella veste di Annunzi Apostolico, come sappiamo però non ottenendo il risultato sperato. I dipinti della serie miravano allo stesso obiettivo. Se nei due, in cui compare insieme a Filippo V, dove al sovrano viene riservato un ruolo di comprimario, sottolineerebbero la bontà dei rapporti che il Nunzio avrebbe dovuto avere intessuto con lui, è il dipinto che va a porsi a chiusura del ciclo. Quello cioè, facendo riferimento alla cacciata del Nunzio dal territorio spagnolo, a stravolgere completamente la narrazione storica della serie, trasformandola in una vera e propria opera di propaganda. Qui, eliminando qualsiasi riferimento al dramma politico in corso, l'episodio è trasformato in un vero e proprio commiato del Nunzio dai funzionari del re, che lo avevano scortato fino ai Pirenei. La valenza politica del ciclo veniva rafforzata dalle tele di Costanzia a Minneapolis e di Odazia a Barberini, in quanto queste dovevano sottolineare come il cardinale fosse in grado di sostenere entrambi i ruoli che caratterizzano un ottimo pontefice, di capo spirituale, e lo vediamo infatti dipinto mentre benedice la popolazione spagnola, e di capo politico, mentre appunto quando sbarca ad Alicante viene accolto dai funzionari di Filippo V. La presenza inoltre dei dipinti dedicati al gesto dei più importanti esponenti di Casa Chigi, certamente ricollegandosi alla più tradizionale idea di celebrazione dell'intero casato, doveva fungere da garanzia circa la dedizione dell'intera famiglia allo Stato pontificio. Ma dove vennero collocate tutte queste opere? Nel 1972 i dipinti zondadari appena acquistati dallo Stato per la Galleria Nazionale d'Arte Antica vennero presentati al pubblico in una piccola mostra. Italo Faldi, nello schedare le opere, riferisce di come queste provenissero in origine dagli eredi zondadari che le conservavano all'interno del palazzo di famiglia a San Quirico d'Orcia. Una traccia della loro presenza in tale palazzo è stata letta in un passo della descrizione di vari monumenti di belle arti raccolti nei miei piccoli viaggi fatti di Ettore Romagnoli, manoscritto datato 1799, conservato presso la Biblioteca Comunale di Siena. Qui sono descritti anche gli ambienti di questa dimora chigiana, cito, la cappella a vari fatti del Nunzio Chigi, come la peste di Messina, eccetera. Tuttavia, come si è visto, nessun dipinto a tale soggetto. Del resto, la peste di Messina avvenne nel 1743, mentre Anton Felice era morto a Siena nel 1737. Che Romagnoli facesse riferimento al dipinto col Cardinale Flavio? Tuttavia, che questi avesse visto notali opere, data anche l'importanza propagandistica della serie, la sua collocazione originaria non poteva essere una dimora di provincia, lontana dalle vicende romane, nonostante questa fosse la sede del Marchesato di Famiglia, concesso da Cosimo III dei Medici al Cardinale Flavio nel 1677. La conferma di ciò la si ricava da un inventario dei beni romani del Cardinale, già menzionato in precedenza, in relazione al perduto dipinto della serie, avente per soggetto Cristina di Svezia. Il documento è segnalato, purtroppo senza trascrizione né tantomeno l'indicazione del suo logo di conservazione, all'interno del volume Art in Rome in the 18th Century del 2000, catalogo di una mostra dove erano esposti due dipinti della serie. Stando alla descrizione dell'inventario, è possibile stabilire l'esatto numero delle telecomponenti il ciclo, 10, e certificare come i dipinti fossero stati concepiti per la residenza romana del Cardinale e quindi portati in Toscana solo in un secondo momento. Ulteriore dilemma che gli studi si sono sempre posti riguarda le copie che da queste opere sarebbero state ricavate. Tutto parte dal passo tratto dalla vita di Sebastiano Conca di Lione Pascoli, che descrive i quadri realizzati dal pittore per Zondadari. Cito. Questione che ha sempre fatto dibattere la critica circa lo status delle due tele di Conca a Palazzo Barberini. Si tratta degli originali o delle copie? Di rimente è ancora l'inventario romano dello Zondadari, grazie al quale capiamo che le copie furono in tutto cinque e riguardarono, oltre ai dipinti di Conca, quello di Nasini, raffigurante l'arcivescovo Alessandro, il perduto dipinto con Cristina di Svezia e quello dedicato al Cardinale Flavio. Le cinque copie erano di dimensioni maggiori rispetto agli originali, pertanto i due dipinti di Palazzo Barberini non possono che essere gli autografi del pittore Gaetano, in quanto di dimensioni simili a tutti e sette gli altri dipinti oggi noti. Inoltre, il minore valore economico dati a queste copie, 35 scudi contro i 50 degli originali più piccoli, lascia intendere che la loro esecuzione fu affidata ad altri pittori. Resta ancora un grande nodo da sciogliere, l'autore del dipinto col Cardinale Flavio Chigi. Questo, in occasione della citata mostra del 1972, veniva presentato come anonimo romano. Nella scheda dedicata al dipinto, Italo Faldi rilevava come, cito, la qualità delle parti in figura è tutt'altro che scarsa, mentre lo studio del bel nudo accademico, dell'appestato riverso, la compostezza dei moti e il ritegno negli affetti inducono a collocare il dipinto in quell'area di cultura neocarraccesca e preclassicistica che a Roma, all'epoca di esecuzione della serie dei dipinti Chigi Zondadari, ebbe i suoi maggiori esponenti in Aureliano Milani e in Marco Benefial. Sulla scia di Faldi, nel 1994, Steffi Rothgen ha avanzato per questo dipinto il nome di Filippo Evangelisti, collaboratore di Benefial. Nel citato volume Art in Roaming the 18th Century, viene invece riferito a Luigi Garzi, mentre, come detto in apertura d'intervento, nel catalogo dei dipinti di Palazzo Barberini, la tela è schedata come opera di Benedetto Luti. Tanto il riferimento a Luti quanto quello a Garzi, per quanto stilisticamente poco sostenibili, ma pur comprensibili per taluni aspetti che ora vedremo, trovano un ostacolo insormontabile nella datazione del ciclo agli anni 1727-28. Entrambi questi pittori erano di fatti già morti da diverso tempo, nel 24 Luti e addirittura nel 21 Garzi. La tela, effettivamente, presenta dei contatti con lo stile di entrambi i maestri. I modi di Garzi sono ricordati soprattutto dalle fisionomie dei personaggi, caratterizzati da profili aguzzi e dalla pennellata asciutta. Di contro, però, lo stile del dipinto rivela un'intenzione naturalistica, già rilevata da Faldi, del tutto estranea all'opera dell'allievo di Sacchi. Questa intenzione appare evidente, in modo particolare, nelle anatomie dei nudi, che sottintendono un preliminare studio del modello in posa e nei volti del cardinale del suo seguito, considerabili dei veri e propri ritratti in piccolo. Similmente, alcuni dettagli compositivi ed esecutivi lasciano comprendere come si possa essere giunti a proporre il nome di Luti. In particolare, il gruppo in primo piano, con il monaco benedicente e la donna morente, si rivela essere un chiaro riferimento al San Carlo Borromeo, che amministra l'estremozione agli appestati di Luti del 1713. Alcuni dettagli della tela con il cardinale Flavio Chigi rivelano come il suo pittore conoscesse molto da vicino l'opera del Fiorentino. Mi riferisco al gruppo dei monatti posti sopra il carrettino, sul fondo, dove il disegno e la stesura pittorica risultano fortemente debitrici di modelli luteschi. Come si può notare dal confronto con i dettagli del citato dipinto di Luti e con un'altra sua tela, conservata nei depositi di Palazzo Barberini, raffigurante la pazzia di Saul. Tenuto anche conto del fatto che già due allievi di Luti, Pietro Bianchi e Placido Costanzi, sono coinvolti nella realizzazione delle tele zondadari, ritengo che anche l'autore di questo dipinto debba essere ricercato all'interno della bottega romana del Fiorentino. Il profilo su cui credo si debba convergere è quello di Giovanni Antonio Grecolini, nato nel 1075 e già allievo di Giovanni Battista Lenardi. Dopo la morte del maestro, nei primi anni del Settecento, allievo inizia a collaborare con Benedetto Luti. A discapito di un'attività grafica ben studiata, soprattutto da Catherine Loisel, la produzione pittorica risulta ancora non molto nota. Si escludono pochi punti fermi, come le tele per il Battistero di San Lorenzo e Lucina, o l'affresco realizzato nella Basilica di San Clemente. Come si può evince dal confronto tra le tele del Battistero, le pitture realizzate per la chiesa di San Francesco di Paola e il dipinto Chigi Zondadari? Non può non rilevarsi un'evidente consonanza stilistica. Analogo è il modo di concepire i volumi, i chiaroscuri, i fisionomie e panneggi, così come simile si presenta la stesura pittorica, realizzata mediante delle pennellate compatte, forse anche un po' piatte. Grecolini, inoltre, essendo stato uno degli artisti coinvolti nella realizzazione dei ritratti disegnati per le vite di Nicola Pio del 1724, era avvezzo anche a tale genere. Confrontando alcuni di questi disegni conservati al Museo Nazionale di Stoccolma con i ritratti del Cardinale Flavio, del suo corteo, e con i volti di altri personaggi nella tela Zondadari, si ha un ulteriore indizio a supporto dell'attribuzione di quest'ultima all'allievo di Luti. Non si tratterebbe, inoltre, nemmeno dell'unica tela che è stata attribuita sia a Grecolini o a Garzi, come il caso di questa adorazione dei pastori che si conserva oggi a Ponza nella chiesa di Santa Trinita, ma che viene dalla demolita chiesa dei Santi Venanzi Anzuino. Concludendo, l'indicazione del Grecolini per la tela con il Cardinale Flavio e la contestualizzazione dell'intera serie nelle dinamiche della diplomazia pontificia costituiscono un ulteriore tassello nello studio degli interessi artistici di Antonio Felice Zondadari e della sua famiglia, diffusi tra le città di Roma, Siena e San Quirico d'Orcia. Si confida nel fatto che il proseguo delle ricerche possa portare a nuove conoscenze che meglio definiscano il suo ruolo di mecenate e collezionista. Grazie. Grazie. Grazie.